Vicenza si tinge di oro, dal 6 all'8 settembre in città esplode i V-Off, tante novità per la terza edizione che verrà caratterizzata dalle opere di Salvador Dalì. A giorni arriveranno le opere monumentali di Dalì che creeranno in tutto il centro storico una mostra diffusa dell'artista catalano, ma diciamo che sono veramente tantissimi gli eventi che caratterizzeranno appunto il Golden Arts. Golden Arts nella città del Palladio e proprio a lui il grande architetto rinascimentale che ha lasciato un'impronta indelebile a Vicenza verrà dedicata a una proiezione straordinaria. Ci sarà anche la proiezione del film su Andrea Palladio recentemente proiettato al cinema e che ricordiamo del prossimo anno sarà in 74 paesi del mondo. Ma uno dei luoghi simbolo di Vicenza per V-Off sarà il parco della città dove il prefetto ha lanciato l'hashtag ripreso da noi di Rete Veneta riprendiamoci Campo Marzo. Riprendiamoci Campo Marzo che non è solo un hashtag ma uno stimolo per tutta la nostra amministrazione e in generale per la nostra cittadinanza che si deve riappropriare sottraendolo al degrado di uno dei posti più belli appunto di Vicenza. Golden Arts, il fil rouge saranno le arti a 360 gradi in tutte le loro sfaccettature e che coinvolgeranno il centro storico con tanti eventi. Uno dei momenti più emozionanti sarà lo spettacolo dei primi ballerini solisti del teatro La Scala di Milano. Lo sabato ci sarà uno spettacolo meraviglioso che partirà alle 9 in Piazza dei Signori e che vedrà i primi ballerini e solisti della Scala di Milano protagonisti del V-Off Golden Arts. All'interno delle vetrine e i negozi ci saranno delle performance artistiche, la collaborazione con Vicenza in lirica, opere d'arte diffuse sia in Corso Fogazzaro che in Piazza San Pietro, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti.